Con tutti i ferri, Odellina corre completamente senza ferri, rapporto di scuderia 4-9, off e matto Martina Stella, partiti in questo istante, si ritrae Narnica, c'è lotta per il comando, con Miss Martacis che rientra gli avversari, si adegua subito, ha sbagliato però Miss Martacis, partito piano Nearco, lo scatto di Over del Sasseto che va facile davanti, la corsa perde uno dei favoriti, il galoppo di Miss Martacis, poco prima di affrontare la curva, 14-4 di lancio, c'è probabilmente Occulto nella scena del leader ma le posizioni non sono per niente stratificate, ha sbagliato anche nel retrovino in Irano, intanto 29 spaccato di quarto di apertura, Occulto che sfida in avanti dopo 500 di gara, lunga fila indiana, Over del Sasseto, off e matto, poi ancora Isler, Cibar di fuori Narnia, che si trascina Odeline, è partito molto piano Nearco che figura nelle posizioni di retroguardia all'esterno, l'allentamento del Cabo Fila, Occulto con Michele Canali che adesso ha decisamente stoppato l'andatura, il secondo quarto in 32 e mezzo, un po' scarsi, posizioni che non variano, Viene di fuori Narnica con Pierluca Cecconi, avanza per inerzia perché si arriverà al chilometro in totale rallentamento, 18 scarsi, si muove anche Odeline nelle asce di Narnica, c'è sempre Over del Sasseto che segue il leader occulto, poi off e matto, e quindi ancora in corda Isler, Cibar che non ha anticipato la colonna esterna e rimane intruppato nel centro gruppo, gli ultimi 400 metri, frazione in controllo da parte di Occulto, ancora 32,6 la frazione, e adesso siamo a 300 della fine con Narnica richiesta, a largo, Occulto ancora in controllo, lo segue sempre Over del Sasseto, poi ancora off e matto in corda, ultima curva in 15,1, l'allungo di Occulto, gli altri a lottare per le piazze, c'è Home, Nearco e NP che è risalito bene ad attaccare il leader nel finale, Nearco che mette la testa davanti, mentre finisce fortissimo all'esterno di tutti il numero 15 di G.C. Light che ottiene probabilmente la terza moneta, sul 30,5 di chiusura, è risalito per corsi impossibili, allievo di Bressan, 2,4 scarsi a distanza, ma la zampata decisiva è quella di Nearco e NP con Massimo De Luca che coglie in crisi negli ultimi 60 metri occulto, e probabilmente ne ha ragione, 2,615 il numerico ed ufficioso ordine arrivo, del quale ovviamente aspettiamo la conferma.